Mi dispiace per accampare questa scusa, però è la realtà. Ma suonare come suonare? No, suono il 7, suono al Cinema Urbana 47, che è via Urbana 47, c'è questo club che è una via di mezzo tra un cinema, anzi grazie, tra un cinema e un club non mai di musica dal vivo, siamo in trio però con Andrea Vena e Alessandra Gui Sanpiano, col pedale che funziona. E poi come faceva? La storia di domenica, diciamo che oggi. Di quando vorreggia il pedale. Il modernismo, del novecentismo. Oggi è il modernismo, del novecentismo, rinnovando tutto va, e le usanze antiche e semplici, sono ricordi che spariscono. E tu Roma mia, senza nostalgia, sposi la modernità, fare la qualunquista, l'esistenzialista, dici ok e l'ho, e chiù iaia. Vecchia Roma, sotto la luna, c'è un canto in più, gli stornelli e le serenate del gioventù. E il progresso l'ha fatta grande, ma sta città, non è quella che si rivela, tanti anni fa. Più non vanno innamorati, per lungo bevere, a un passare in pace a mille là sotto l'arberi. Per i sogni sognati all'ombra del cielo blu, sui ricordi di un tempo bello che non c'è più.